I carabinieri di Catania hanno arrestato un pregiudicato 28enne di Librino responsabile dei reati di estorsione e atti persecutori nei confronti del padre 67enne. La pattuglia della stazione di Librino, competente per giurisdizione territoriale, è intervenuta in aiuto dei colleghi del nucleo radiomobile che a seguito di una richiesta d'aiuto arrivata al numero unico d'emergenza 112 erano stati inviati dalla centrale operativa per una violenta lite in famiglia. I militari dell'arma hanno appreso dalla stessa voce della vittima padre della 28enne che il figlio gli avrebbe richiesto ancora una volta una somma di denaro che seppure consistente in soli 10 euro andava ad aggiungersi alla precedente somma di circa 1000 euro data dal padre solo la settimana precedente. Il 28enne, come confermato anche da altri membri della famiglia, sarebbe stato solito chiedere continuamente somme di denaro al padre per l'acquisto di sostanze stupefacenti di cui egli sarebbe abituale consumatore. Tali richieste sarebbero però state sempre aggravate da minacce di morte nei confronti del genitore brandendo tra le mani arnesi da lavoro o coltelli. Episodi già denunciati precedentemente negli scorsi mesi di febbraio e marzo. Il padre, impossibilitato a esaudire l'ennesima richiesta economica del figlio, è stato minacciato da quest'ultimo che in escandescenza si è impadronito di una spranga metallica e avrebbe rincorso il genitore fino al garage dove il poveretto avrebbe cercato rifugio. Il 28enne avrebbe minacciato anche il fratello maggiore presente insieme alla propria moglie nel box. L'arrivo dei carabinieri avrebbe riportato alla ragione il 28enne che è rimasto presente alla ricostruzione dei fatti esposta dal padre ai militari, i quali lo hanno così messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Convalidato l'arresto il giovane è stato trasferito nel carcere di Catania Piazza Lanza.